ciao a tutti cari amici Michele sono della bilancia prima di tutto scusatemi se ogni tanto ho il raspino ho la tosse ma purtroppo ho il covid quindi sono qui tappato in casa comunque sia per passare un po' il tempo voglio girarvi il solito orosco per visioni per la settimana dal 7 al 13 novembre 2022 se vi va iscritti al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra lasciate un like, un commento, un feedback e iscrivetevi al canale vi ricordo che queste sono energie e messaggi generali quindi non possono valere per tutti incominciamo con capire le energie per voi del segno della bilancia vediamo un attimino per voi della bilancia che cosa succederà durante questa settimana abbiamo la carta 28 della consapevolezza vediamo altri messaggi con la seconda carta abbiamo la carta dell'otto di Ariel ok poi un arcano maggiore o minore dei metarocchi dell'età romaine il fante di spade e poi vediamo l'ultima carta con l'oracolo dell'apocalisse abbiamo la sposa dell'agnello questa carta che è uscita è dritta sicuramente durante questa settimana sarete degli abili degli astuti osservatori diciamo che in alcuni casi spierete anche le mosse o le azioni di una persona che state pensando oppure che vi sarà particolarmente a cuore e che vi sta particolarmente a cuore quindi potrebbe essere il fatto di spiare il vostro compagno o compagna un amico qualcosa appuntista lavorativo anche ovviamente familiare sarete comunque guardinghi sarete un po' nel cosiddetto stato di allerta anche perché in alcuni casi c'è una situazione che vi puzzicchia in passato i miei termini e questi dubbi queste incertezze devono ovviamente terminare quindi avete bisogno di avere delle risposte quindi avere magari qualche più certezza appuntista relazionale o in generale in qualsiasi tipo di rapporto interpersonale qui aprirete gli occhi la costante è proprio la consapevolezza essere consapevoli capire come stanno le cose capire quello che desidera il vostro cuore e anche ovviamente collegandolo anche alla vostra mente alla vostra razionalità aprirete gli occhi ormai non farete più finta di niente e se avete da dire qualcosa lo direte perché in alcuni casi vi siete stufati sempre nel rimanere nel vostro angolino in questo caso dovete dire come stanno le cose e anche la vostra opinione nei riguardi di una dinamica di una situazione o anche di uno più rapporti interpersonali ok ora qui farete svolgerete porterete avanti un eccellente lavoro come ci dice questo 8 diarie qui c'è la carta anche dello studio della formazione alcuni di voi prenderanno a studiare magari alcuni di voi si riscriveranno a scuola oppure all'università alcuni di voi dovranno dare degli esami esami universitari e non so perché è venuto proprio questo sentore visto che c'è questo fante di spade qui potreste anche copiare riuscirete magari mi spiace dirlo per gli insegnanti all'ascolto però c'è qualche studente che potrebbe copiare appunto da un altro studente perché magari non ha studiato e magari riesce nel suo intento riesce perché no ad avere anche un risultato abbastanza buono da puntista proprio scolastico o anche da puntista proprio universitario ok qui poi c'è la possibilità di andare a fare uno stage a un erasmus un corso di formazione di aggiornamento a puntista lavorativo e sicuramente potrebbe esserci anche un periodo per alcuni di voi di stage di tirocinio per fare in modo che la pratica vi renda diciamo perfetti anche se la perfezione non esiste però vi permetta la pratica di arrivare anche ad avere un determinato risultato quando appunto vi rapportate con altre persone o anche in base al lavoro che inizierete a fare oppure che porterete avanti poi ci sarà maggior contatto con i libri le riviste vorrete proprio ampliare le vostre conoscenze magari inizierete a leggere dei libri potrete fare anche dei corsi online ma è importante inoltre se dovete non so firmare un qualsiasi tipo di documento mi raccomando cercate bene di guardare riga per riga parola per parola prima di apporre la vostra firma e in quel caso poi il gioco è fatto le je son fait ok è per quello che poi ci potrebbero essere dei dubbi delle incertezze su persone questioni burocratiche informatiche amministrative qualsiasi tipo anche proprio dei dubbi sulla persona che avete vicino a voi ok ora qual è il significato dell'ultima carta che è la sposa dell'agnello questa comunque è una carta molto bella perché indica la purezza indica l'amore a 360 gradi indica anche la semplicità potrebbe essere anche il fatto di iniziare una nuova fase relazionale oppure trovare un nuovo amore un amore comunque disinteressato con sentimenti sinceri leali potrebbe essere anche qui in questo caso una donna una donna anche bella da puntista fisico una persona sincera della quale comunque potete fidarvi però in alcuni casi anche se fondamentalmente questa persona è sincera voi però ripeto sarete un po' guardinghi perché nonostante tutto avrete per quella persona dei dubbi ok ma in questo caso lasciatemi dirmi lasciatemi dire sono solamente un po' delle vostre pippe mentali perché veramente la sposa dell'agnello questa carta è molto positiva è una delle migliori del mazzo e potrete fare affidamento su questa persona potrebbe essere di sesso femminile ma potrebbe essere benissimo un uomo che ha anche non so delle caratteristiche qualcosa di femminile quindi fidatevi comunque di questa persona infatti questo questo uomo che quasi quasi non vuole neanche farsi riconoscere sta anche spiando chi questa persona perché vedete la faccia il viso è rivolto verso destra quindi sta guardando sta spiando le mosse della di questa persona potreste anche magari non so spiare messaggi whatsapp sul cellulare di vostro marito muoio oppure compagno compagna poi ci sono varie sfumature ok benissimo caravici vi aspetto sempre qui sul tagomè ciao a tutte alla prossima ciao a tutti